Buon Natale in casa, no ma mammazzo e benvenuti in questo video natalizio in cui vi faccio vedere un po' di acquisti e un po' di omaggi anche di fumetti che ho letto in questo periodo e non temete farò un video per ogni singolo fumetto però dato che innanzitutto vedo che vanno molto i video dove si mostrano gli acquisti di fumetti quindi voglio mostrarveli in un video che poi sarà riassuntivo dei video che seguiranno volevo appunto mostrarvi il tutto anche per farvi vedere di cosa parleremo nei prossimi video poi vorrò anche fare magari delle live laddove i fumetti me lo permetteranno cioè dove ci sono degli autori italiani e farò delle live su Twitch in cui magari approfondirò se gli autori saranno felici di essere ospitati da me ma bando alle ciance senza indugio vorrei parlare con voi di uno dei primi fumetti che mi sono stati suggeriti caldamente ringrazio Moretti Maurizio per Kingsgarden eccolo qua ovviamente vi metto sempre qua sotto in descrizione apritele sempre le mie descrizioni perché trovate tutti i link in questo caso troverete il link per acquistare questo fumetto io ho questa copertina ma ce ne sono diverse magari io ve le metto tutte e quattro e vedete voi quale preferite allora è un fumetto ovviamente è un fumetto autoprodotto di un autore italiano indipendente ed è una diciamo la sua opera omnia anche se come leggo dalla seconda o terza di copertina è comunque tratto da un romanzo che lui sta scrivendo quindi è come se fosse non lo so una versione fumettistica di un romanzo sempre suo che dovrà uscire è molto basato sull'illustrazione è molto sperimentale quindi non è un fumetto classico scordatevi la griglia classica fa impallidire il Dylan Dog Colorfest in quanto sperimentazione si passa da splash page totali a delle opere ecco forse tra le griglie più classiche ci sono queste ci sono quattro griglie poi è tutto assolutamente fuori da ogni schema fuori da ogni regola quando si disegna in questo modo chiaramente si consumano più pagine quindi non essendoci una griglia molto fitta ovviamente con lo stesso numero di pagine la storia è più corta ed è una scelta coraggiosa che io apprezzo sempre tanto perché tutti potrebbero nelle stesse pagine scrivere il triplo affidandosi a una griglia in stile Tex qua invece è proprio una visione dell'autore molto appunto visiva un'intenzione registica diversa, autoriale molto diversa qui non si vuole tanto dare un messaggio che viene veicolato per forza dai balloon, dalle parole ma anche proprio dal disegno stesso e questo l'ho trovato molto molto interessante è in un certo senso una origin story nel senso che noi qua vediamo solamente la nascita del protagonista il protagonista è un bambino un clown del circo che ha come nemesi diciamo il gestore del circo che è l'imbonitore del circo che è fondamentalmente il suo padre o padre adottivo che dir si voglia che lo tratta de merda mi ha ricordato un po' come Mangiafuoco trattava i burattini in Pinocchio in un certo senso come se fossero appunto dei non degli esseri umani ma delle sue proprietà da mettere in scena la trama fondamentalmente consiste nel fatto che il bambino cerca di scappare da questo circo ma c'è molto di più c'è tutta una metafora sul fatto che lui fondamentalmente cerca di scappare dai sopprusi della sua famiglia dai sopprusi della sua vita dal rapporto orrendo che ha con questa persona con questa figura con questo gestore del circo cerca di fuggire anche da tutte le varie da questo concetto della società un po' tossica dove ci sono appunto gli analfabeti funzionali rappresentati anche da questo tizio che dice le palle, ce l'hai le palle ragazzo le classiche frasi stereotipate che ti lasciano incastrato nella vita quando vuoi sfondare vuoi fare qualcosa di diverso vuoi fare magari qualcosa di creativo e le persone che non capiscono la tua creatività la tua arte la tua intelligenza perché alla fine di questo si parla non capendola ne hanno paura l'attaccano perché è diversa è diversa dalla loro come si dice banalità di vita dalla loro dal loro non essere speciali dal loro essere banali normali essere semplici o in modo ancora più cattivo dal loro essere analfabeti funzionali questo bambino questo pagliaccetto cerca appunto di scappare da tutto questo e sul suo cammino arriva anche un aiutante un leone una chimera che dir si voglia comunque che a differenza di quello che si potrebbe pensare nelle storie classiche nelle storie di eroismo resta indietro nel senso resta al circo io speravo che scappasse con il bambino e invece resta indietro però appunto dicevo è un origin story perché lui finisce la storia finisce che lui riesce in un certo senso a uscire da questo circo ma è come se la sua avventura fosse appena iniziato almeno questo è quello che ho pensato io poi non so se comunque vuole essere un'opera autoconclusiva che ci lascia un finale aperto proprio perché essendo molto strano particolare come fumetto potrebbe essere così però è anche vero che qua c'è scritto numero uno quindi può darsi che l'idea sia di proseguire io lo spero lo auguro a Maurizio e lo ringrazio per questo fantastico regalo il secondo invece è un numero che io ho diciamo scoperto navigando nell'internet navigando su Instagram ho scoperto questa fantastica copertina che è talmente iconica che non ti può far soffermare a capire cosa stai guardando ed è Dylan Dogui viaggio ai confini del gender opera volutamente trash volutamente parodistica in cui il Dogui nazionale ovvero Guido Nicheli interpreta il protagonista di questo albo che tra l'altro è il secondo il secondo è appunto viaggio ai confini del gender c'è un primo un primo numero che era nella cui copertina viene raffigurata appunto l'alba dei morti viventi qua invece viene raffigurata la copertina del lungo addio ovviamente al posto del Luna Park ci sono un po' tutte le cose che vengono trattate all'interno di questo numero come la schwa e la bandiera arcobaleno lgbt questo è un personaggio che rappresenta la sociolinguista che tratta appunto di questi argomenti sul su come chiamare le persone che non si identificano in un genere specifico e nonostante le apparenze che le apparenze sono date dalla presenza di Guido Nicheli che rappresenta quell'Italia anni 80 che penso sia la più lontana dal voler accettare un certo tipo di evolversi del linguaggio chiamiamolo così nonostante questo tutto questo numero che è fuori di testa dall'inizio alla fine anche l'editoriale è tutto assurdo non credo ci sia nulla di vero forse l'email è vero in quello che c'è scritto qua dentro è sottilmente progressista infatti Guido Nicheli al secolo il Dogui fa questo viaggio appunto attraverso lo spazio e il tempo in cui riesce un po' a modificare le sorti del linguaggio moderno italiano con linguaggio moderno intendo anche il linguaggio televisivo tutto il trashume che vediamo che è un residuato della tv di anni e anni fa riesce appunto un po' a stravolgerlo in questo viaggio grazie al fatto che in questo viaggio anche lui stesso diciamo apre la sua mente perché comunque il Dogui è sempre stato un po' l'imprenditore moderno lanciato nel futuro quindi in un certo senso riesce a comprendere se non per diciamo se non abbraccia pienamente questi nuovi concetti quantomeno è capace di abbracciarli per convenienza che è il massimo che si può chiedere da uno della generazione del Dogui vediamo che appunto questo numero va a scimmiottare tutte queste tutte queste piccolezze che non sono piccolezze in realtà tutte queste piccolezze moderne per per fare invece il verso alle persone che si indignano perché non si può più dire niente è una lobby ci sono solo loro in tv tutte queste cose qua ecco questo numero che sembra parli di tutt'altro che sembra parli contro i radical chic ecco dove mi ci metto anch'io in un certo senso dove la gente usa il termine radical chic in modo dispregiativo in realtà è assolutamente invece contro sempre questi analfabeti funzionali che non non riescono ad avere la sensibilità di comprendere alcune cose se si parla di sociolinguistica e di sensibilità se si parla di grammatica per carità il discorso cambia ma magari faremo una live apposta fumetto di cui parlerò solamente in un video dedicato perché è un po' la perla non italiana qua dentro che avevo addocchiato su amazon Batman le nuove avventure praticamente è un ideale proseguo della serie animata che introduce i personaggi che nella serie animata non ci sono stati come Deathstroke come il secondo Robin e non sto sbagliando quindi non il terzo Robin Tim Drake ma il secondo Robin e tutta la sua storia viene introdotto Azrael ho da dire diverse cose su questo fumetto anche dal punto di vista grafico essendo un appassionato enorme della serie tv Batman di Animated Series quindi ne parleremo insieme proprio in un video dedicato torniamo ai fumetti italiani ho voluto fare apposto uno stacco perché qua ci sono invece due fumetti di case editrici un po' più conosciute una soprattutto è la Sergio Bonelli editore che anche su vostra richiesta nei commenti mi avete chiesto cosa ne penso della divina congrega non ne pensavo nulla perché non l'avevo ancora preso adesso finalmente l'ho preso e ne parlerò in un video dedicato molto in modo approfondito chiaramente la divina commedia è un po' un tentativo italiano di creare una sorta di lega degli uomini straordinari versione italiana e sempre su questa falsa riga cioè prendere dei personaggi della storia italiana realmente esistiti o comunque della letteratura italiana perché nella divina congrega c'è un mix delle due cose e si usa la stessa lo stesso pretesto anche Andrea Guglielmino per raccontare il suo Garibaldi versus zombie che è edito dalla M3 edizioni la M3 edizioni è la stessa di Capitan Nova ex Capitan Novara che poi è diventato Capitan Nova e che ora sta proponendo Guardiani Italiani una sorta di initiative degli Avengers dove ogni regione italiana ha un suo supereroe qua ovviamente il taglio è totalmente diverso la divina congrega ha un certo senso di epica fondamentalmente di entrambi cercano un po' di scimmiottare il genere supereroistico con gli eroi nostrani però sì la divina commedia si prende vagamente sul serio la divina congrega scusate si prende sul serio qua invece c'è un'altra perla volutamente trash dove tra l'altro non ci sono limiti che magari avrebbe non lo so Imposto Labonelli che cazzo ne so Andrea Guglielmino è totalmente fuori controllo in questo numero ci sono delle citazioni sia visive sia narrative sia proprio a livello di dialoghi a delle perle cinematografiche che rendono questa storia oltre che anacronistica una fantastica perla perla trash mentre sfogliavo mi è caduto l'occhio su una citazione che avevo perso a una priva visione vi faccio solo vedere Garibaldi e Nino Bixio che come Batman e Robin negli anni 60 cercano di scalare un muro con la corda Garibaldi vs. Zombie è esilarante ne parleremo bene bene in un video a parte e magari anche in una live comunque ve lo consiglio se non bastasse vi dico due note in più allora innanzitutto Andrea Guglielmino è l'autore di uno dei Samuel Stern che preferisco che è il secondo girone il numero 8 di Samuel Stern mentre il disegnatore è Fabrizio De Fabritis appunto che disegna Guardiani Italiani per la M3 edizioni se non conoscete il suo tratto conoscetelo perché abbiamo un fumettista ne abbiamo più di uno sicuramente però abbiamo un fumettista in Italia che fa opere di questo livello disegni e colori tutti i suoi opere inquadrature di questo livello e ragazzi non ce lo dobbiamo far scappare leggete tutto quello che può essere stato disegnato da De Fabritis perché ha un tratto spettacolare bene io ho parlato fin troppo per un video di presentazione ma chi se ne fotte mettetelo a velocità 2 eventualmente che così si accorcia io ne approfitto per farvi tantissimi auguri di buon Natale se riesco sempre nella giornata di oggi potrebbe magari già uscire il video su Batman ma non ne sono sicuro però mi piacerebbe parlare di Batman nel periodo natalizio dato che non lo so mi richiamo un po' il Natale Batman per qualche strana ragione malata se non esce oggi uscirà comunque tra Natale e Capodanno e poi con molta calma da gennaio parleremo di tutti gli altri fumetti che vi ho mostrato in questo video quindi restate sintonizzati iscrivetevi al canale eccetera 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 buon Natale di cuore da No Mamamazzo arrivederci grazie a tutti grazie a tutti